Candidato Presidente della Repubblica, José Ramozorta, considera settore privato importante per il desenvolvimento dell'economia timoreste. Candidato Presidente della Repubblica, José Ramozorta, considera settore privato importante per il desenvolvimento dell'economia timoreste. Per il desenvolvimento dell'economia, l'economia è stata un'economia, ma che il settore privato ha cambiato. Donor Presidente della Repubblica, la Repubblica, la Repubblica, la Repubblica, la Repubblica, la Repubblica. ma da Roma a Rapporto 11 privato ma calo significa, claro, entrega contrato privato ma privato rassi bel hallo a Rapporto e da e dopo si era ma che esplora a Rapporto non è, a Rapporto non è Sernio se è ma che stava 200 milioni che ha 300 milioni ma vei a Itinerrai, strada, elettacidade educazione, la maggior parte del Stato ma il Stato deve stare nel settore privato Equipa Movimento Dinamizador Apoio Mombot Xanana Guzmau, Eduardo Gatot fu subapoiante si rato for Votos Confianza Tanta eleição, segunda volta né rodilore candidato José Ramos Orta Batur e a Palacio Presidencial Aitara Claram a tu lidera Fali, Estado né Votos Confianza, Mombotos Confianza Aplausos 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 Aplausos